Il prolasso degli organi pelvici si manifesta quando i muscoli e i legamenti pelvici si indeboliscono, non riuscendo a mantenere tali organi nella loro corretta posizione. Questo grave ed invalidante problema colpisce milioni di persone, soprattutto donne, causando problemi di incontinenza urinaria e fecale. Di tutto questo parleremo a Medicina Amica martedì 24 ottobre in prima serata alle 21 con il professor Antonio Longo, colon proctologo di fama internazionale. Autore di più di mille pubblicazioni, direttore del Centro Europeo di colon proctologie e patologie pelviche dell'ospedale di Sant'Elisabeth di Vienna. Con la tecnica Longo attualmente sono stati eseguiti oltre 2 milioni di interventi in tutto il mondo. Non perdetevi questo importante appuntamento.